Misure immediate per la modifica del sistema delle pene e rafforzamento delle misure alternative al carcere. Questi temi sostenuti dagli avvocati penalisti che oggi in tutta Italia si sono astenuti dalle udienze. A Lanciano la Camera Penale ha promosso un dibattito con la magistratura in tribunale, 23 le cause disertate dagli avvocati frentani sulle 24 iscritte a ruolo. Le condizioni di sovraffollamento del carcere di Lanciano sono indicative della situazione media nazionale, è stato detto all'incontro, al quale ha partecipato tra gli altri il comandante della polizia penitenziaria locale, Nicola Pellicciaro. 258 detenuti, 60 oltre la capienza, altri 126 detenuti per un totale di 374 sono momentaneamente distaccati per processi in corso. Solo 144 però fanno notare i penalisti, sono i detenuti con posizione giuridica definitiva. Alessandro Troilo, presidente della Camera Penale di Lanciano. Una riforma organica e strutturale ormai non è più rinviabile, questo discorso è legato al numero, ci sono delle percentuali impressionanti, alcune carceri perché noi abbiamo a livello di Camera Penale nazionale un osservatorio che si occupa mensilmente della situazione delle carceri, ci sono istituti dove addirittura la popolazione è carcerare il triplo rispetto a quella prevista, con condizioni disumane di persone che stanno in celle di 9 metri quadri, anche 5-6 persone, si riflette sugli agenti di polizia penitenziaria che sono in sottonumero, così per gli educatori. E chiaramente noi vogliamo che ci sia finalmente il Parlamento e il Governo che facciano una riforma organica e strutturale che porti a una soluzione del problema, non dico definitiva, ma comunque possibile e praticabile come potrebbero essere delle misure alternative alla detenzione fino a un determinato residuo di pena da scontare o pena da scontare che potrebbe essere il limite di 3 o 4 anni, trasportando ad esempio nel processo penale la messa in prova nel processo minorile. Oggi abbiamo avuto questo dialogo con i magistrati, sono perfettamente d'accordo con noi, tra l'altro Magistratura Democratica sulla stampa ha condiviso in pieno la lotta delle Camere Penali Nazionali, l'unico elemento di frizione è l'elemento sulla custodia cautelare, ma noi penalisti volevamo solo dire che i numeri ci danno l'idea che quasi la metà della popolazione carceraria sono detenuti non definitivi, cioè che stanno scontando una pena che potrebbe non essere pure data alla fine e all'esito di un processo.